Ciao e benvenuto nella seconda parte del Linux per principianti. In questa lezione andremo a vedere qual è la scelta della distribuzione più adatta. Quindi ci saranno degli esempi su alcune distribuzioni. Poi andremo a installare una di queste distribuzioni, già te l'anticipo sarà Ubuntu perché è quella più popolare, e da lì poi andremo a fare una piccola panoramica sull'interfaccia grafica di Linux, i diversi ambienti, quindi nome, kde, eccetera, navigare nel desktop e nel menu delle sue applicazioni, e infine la gestione dei file e delle cartelle. Ubuntu è praticamente la distribuzione Linux più diffusa e apprezzata dal pubblico. Si tratta del punto di partenza perfetto per i nuovi utenti, con poca dimestichezza in questo ambiente, dato che il sistema operativo basato su Linux più user-friendly è in circolazione, proprio la sua ampia diffusione lo rende anche il più fruibile dal punto di vista dell'assistenza, grazie a molteplici community italiane non e forum che assistono gli utenti proponendo consigli utili per i neo e neofiti. Importante sono anche le sottodistribuzioni Ubuntu e Ubuntu Mate, più adatte ai notebook o hardware poco performanti. Pop.OS. In questo caso parliamo di una distribuzione Linux basata su una nuova versione di Ubuntu LTS, che sfoggia un'interfaccia utente personalizzabile su Gnome. Questa da distro è stata realizzata da System76, un rivenditore di computer Linux. Non solo hanno fatto di tutto affinché questa distribuzione si adatte a principianti grazie a video informativi e un numero crescente di guide, ma dispone di tutto un impianto necessario per dare ai suoi utenti una base di gaming ideale. Si parla di software capaci di esaltare le prestazioni grafiche e di gestire al meglio la potenza delle GPU in uso. Linux Mint. Il cambio da Windows o Mac a Linux a volte può essere pur rascoso, e per questo gli sviluppatori hanno cercato di realizzare soluzioni che non destabilizzano molto gli utenti. Proprio in questo senso si sono mossi su Linux Mint, che risulta essere ancora più adatto di Ubuntu, sotto questo aspetto. Oltre all'interfaccia più familiare, sono già installati default software utilizzabili anche su Windows. Anche Mint è sincronizzato con le ultime versioni di Ubuntu LTS. Questo significa che fornisce sempre la massima sicurezza dal punto di vista degli attacchi malware. Debian. Questo sistema operativo può essere considerato il fratello maggiore di Ubuntu. Si tratta di una distribuzione sempre aggiornata, nonché un vero e proprio pilastro portante nell'ambiente Linux. Nei grandi repository disponibili è possibile trovare una marea di applicazioni e si dimostra ancora flessibile e personalizzabile rispetto ad altri sistemi operativi giunti successivamente. Andiamo ad installare Ubuntu. Per installare Ubuntu è molto semplice. Basta andare sulla pagina di ubuntu.com, cliccare su Download, quindi Get Ubuntu Desktop, poi scendiamo un po' in basso e prendiamo la prima, che è questa. Ora io l'ho già scaricato per risparmiare un pochino di tempo, però il download chiaramente dipende dalla velocità della tua connessione a internet, ma sono 4 giga, quindi niente di particolare. Poi nel mio caso vado ad utilizzare VMware, ma puoi utilizzare anche VirtualBox. Quindi faccio File, Nuova Macchina Virtuale, vado avanti, seleziono il file che mi ha scaricato, quindi l'immagine ISO, qui next, qui metto un nome, crazy net, poi un utente password admin 123 con la A maiuscola, vado avanti, qui lascio il nome di default, Ubuntu 64 bit, poi se hai più di un disco, tipo nel mio caso, vado a selezionare il disco dove voglio installare la macchina virtuale. Io ho una cartella che si chiama QVM, quindi seleziono la cartella e scrivo slash Ubuntu, poi vado avanti, sono più che sufficienti, 4 giga di RAM per la macchina virtuale. Una volta che lui carica la ISO, qualche secondo, ci diamo all'installazione che poi peraltro è automatica, perché adesso che lui carica la ISO parte Ubuntu automaticamente. Poi a questo punto mi è tempo di caricare, una volta che lui ha caricato, ci appare così. Qui ci chiede in che lingua lo vogliamo e il tipo di tastiera, io lascio tutto inglese e premo continua. Qui ci chiede come vogliamo fare l'installazione, se è normale o minima, se vogliamo scaricare gli updates. Andiamo avanti. Poi qui ci avvisa che verranno cancellati tutti i dati sull'hard disk, in questo caso noi ci va bene perché tanto è la macchina virtuale. Facciamo install, ok, continua. Qui è il time zone, nel mio caso è Malta, nel tuo caso sarà Roma se sei in Italia oppure dalla nazione dove guardi questo video. Continua. Quindi your name mettiamo CrazyNet, poi computer name CrazyNet Virtual Machine, username CrazyNet, password admin 123, admin 123. Qui possiamo scegliere se quando abbiamo la macchina virtuale farà il login automatico o se tutte le volte dobbiamo inserire la password. Se hai un server Active Directory, posso selezionare Active Directory e il username e la password la prenderà dal server di Windows. Quindi continua. Una volta completata l'installazione, dobbiamo riavviare ancora qualche secondo e avremo il nostro sistema operativo pronto e funzionante. Ed eccolo qua. Qui dobbiamo inserire la password messa in precedenza, quindi è admin 123. Ora espando la finestra è da qua di VMware, così lo vediamo meglio. Qui ci chiede se vogliamo collegarlo a qualche nostro account online. E noi lo saltiamo. Qui ci chiede se vogliamo Enable Ubuntu Pro for Disinstallation e io gli dico skip for now. Avanti. Qui sono le legal notice, le note legali di Ubuntu. Avanti. Privacy. Qui ci chiede se vogliamo che gli altri software accedino alla nostra posizione geografica. E io gli dico di no. Queste sono le applicazioni di default. e voilà. Abbiamo tutto. Allora, vediamo un attimo. Ora dovrebbe partire un'altra finestrella che ci aggiorna il sistema operativo. Comunque, qui in basso a sinistra abbiamo il tasto Start dove troviamo tutte le nostre applicazioni. Quindi questo è per esempio il Power Statistics, il solitario, Drive aggiuntivi, Office, che è quello gratuito, quello open source. Poi mettiamo che io invece voglio ah, eccolo qua, installa, che invece io voglio mettere un'applicazione che non ho di default come molto probabile. Io cliccando qui a sinistra Ubuntu Software mi si apre il Market e posso digitare o cercare l'applicazione che magari serve proprio a me. Ora diamo un attimo che si apre. Una volta che si fa partire ovviamente il sistema operativo non è mai super veloce, anche perché sta facendo gli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Ok. Qui abbiamo gli aggiornamenti per le nostre applicazioni già installate. Qui troviamo le nostre applicazioni invece installate che ora le sta controllando, le sta indicizzando. E poi su Esplora abbiamo diverse applicazioni. Per esempio PowerShell che è il PowerShell di Windows. Poi questo è il GIMP che è per Photoshop ma è quello Skype ovviamente non importa specificare che cos'è. Questo è un programma per email, Spotify, questo è per le password, per proteggere le password. Poi mettiamo che io invece cerco qualcosa che so musica e audio. Clicco qui e lui mi suggerirà delle applicazioni. Poi se invece queste applicazioni non mi soddisfano io posso sempre andare su Google scrivo che so video editing Ubuntu e mi esce fuori una lista di possibili software che magari possono fare al caso mio quindi con i vari vari commenti e le varie specifiche. Poi basta cliccarci sopra e la installo. A questo punto una volta che ha terminato gli aggiornamenti passiamo all'installazione. Adesso andiamo a smanettare un pochino. Quello che vedi è il desktop GNOME e viene fornito di default con Ubuntu quando lo installi che è questo che vedi. Eccolo qui con queste icone con queste applicazioni eccetera eccetera. Poi noi andiamo a installare invece KDE KDE è principalmente in due versioni KDE completo e KDE normale. La differenza è che con KDE completo hai tutte le dipendenze quindi hai il desktop Plasma KDE che è quello principale e poi tutte le dipendenze. Quando senti dire dipendenze in Linux sono come dire pezzetti di software aggiuntivo pacchetti aggiuntivi. Poi c'è quello normale che include ovviamente il desktop Plasma e un set di applicazioni come KDE che è un editor di testo predefinito con KEROS che è un browser web predefinito KGET che è il download manager KMail che è il client di posta Dolphin che è il file manager eccetera. Noi andiamo a installare quello completo Per far ciò è molto semplice questo metodo puoi farlo per tutte le applicazioni Linux Allora qui andiamo a scrivere sudo su e ci chiede la password dell'amministratore che è admin123 che è quella che abbiamo messo in precedenza sudo su è praticamente gli vado a dire di entrare nella modalità amministratore che sotto Linux si chiama root quando sei in questa modalità qui quindi lo si vede dal cancelletto che è qua te hai tutti i poteri dell'amministratore puoi fare tutto puoi togliere aggiungere eccetera eccetera quindi scriviamo apt install KDE full e premi invio lui ci chiede ci dice che questa operazione installerà 4,158 MB yes e ovviamente dipende dalla tua connessione quanto è veloce ci metterà più o meno tempo in questo caso io sono già al 7% dobbiamo soltanto attendere ok a questo punto andiamo a completare l'installazione e andiamo su sddm premi ok e parte l'installazione del desktop una volta riavviato ci appare così ora a me ovviamente mi dà il giorno e il mese in maltese perché sono a malta e quindi lui me lo assume assume che io sappia il maltese ma in realtà non è così e prima invio una volta che ho fatto invio lui carica il desktop per la prima volta come già abbiamo visto in precedenza è un pochino lento e qui abbiamo il nostro desktop KDE come vedi la barra è in basso tipo windows qui abbiamo la scelta della lingua della tastiera in questo caso è solo inglese qui abbiamo le impostazioni di sistema quindi per esempio dark light impostazioni classic poi dopo qui abbiamo il nostro tasto tipo start tipo windows che vediamo che come vedi è molto familiare a windows 10 o windows 11 per esempio qui abbiamo i nostri vari settaggi per esempio system settings che alla finestrina di prima dovremmo avere about this system KDE plasma ed eccolo qui ora magari tu dici ma a me questo qui add widget se vuoi gli widget per esempio vedi qua c'è l'orologio eccolo qui che ovviamente puoi spostare dove vuoi sul desktop dovremmo avere anche per esempio il widget di sistema eccolo qui system monitor per esempio questo fa molto hacker e chiudi poi dopo fammi vedere system monitor un secondo widget ops add widget system individual core system monitor network speed system monitor sensor ok ora ho capito gli va attivato questo si chiude e questo lo spostiamo qui lo smettiamo per esempio qui a sinistra qui ci abbiamo cosa vogliamo vedere se per esempio vedi tipo a torta o come come preferisci per il momento va bene anche così questo lo chiudiamo e qui abbiamo i nostri widget ora il punto è magari dici madonna santa ma a me questo desktop non mi piace è brutto non lo voglio più va bene allora facciamo così andiamo su chat che dovrebbe dirci di fare logout facciamo logout e torniamo al menu di partenza avvio ok in alto a sinistra aspetta qui in alto abbiamo la nostra tastiera plasma ok qui in alto a sinistra abbiamo qui il kdplasma oppure ubuntu e io voglio tornare a ubuntu premio ubuntu riavvia e lui ricarica il desktop di ubuntu originale quello di ubuntu non è male sinceramente ora ti faccio vedere un'altra cosa che questo mi appare perché è un'impostazione mia del dmware no scusa ubuntu ok admin 123 ed ecco ubuntu qui è ok qui è per le password no don't create chiudi per il momento ora ubuntu non è male solo per esempio chi è abituato a windows magari le icone le vede un po' in modo diverso quindi è come dire una questione di farci l'occhio però se tu vuoi puoi fare desktop qui su aspetta forse ho fatto troppo veloce clicca col tasto destro fai desktop icons settings e qui hai vedi puoi mettere tutto puoi fargli fare vedi qui l'ombra che è verde oppure il colore classico d'ubuntu eccetera eccetera qui c'è la dimensione delle icone per esempio small e vedi la fa piccola qui è la posizione della barra qui è a right oppure scusami qui è a sinistra oppure la puoi mettere a destra se vuoi o secondo come la scegli bottom e poi quando te esci lui vedi te la mette qua ora si sta ancora finendo di fare tutti i settaggi mettiamo normale così almeno la vediamo meglio top right top 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 left ok ora lui ce la ce la cambia poi qui c'è l'icona aspetta qui c'è la modalità vedi dell'icone quanto le vuoi grosse questa è la modalità di default oppure te le vuoi più piccole insomma la puoi mettere come preferisci invece la posizione della barra basta andare qui position on the screen left per esempio right oppure se la vuoi in basso se la vuoi in basso puoi magari desideri ridurre l'icone e qui hai tutte le tue iconcine come vedi è molto personalizzabile come windows d'altronde poi poi dopo qui abbiamo il nostro classico file fox quindi facciamo per esempio facebook o youtube visto che siamo su youtube e e voilà puoi andare su internet e fare tutte le stesse cose che puoi fare su windows solo che con linux per certi versi le fai anche meglio perché è praticamente tutto personalizzabile a questo punto andiamo a vedere la gestione dei file per la gestione dei file ora ti faccio vedere ci sono tante cartelle che magari chi proviene dal mondo di tanto leviamo il cd e per chi proviene dal mondo di windows non è forse come dire abituata a vederle quindi computer qui ci sono tutte le cartelle di linux quelle di default bin boot cd rom cd rom etc home ecco andremo a vedere a che cosa servono queste cartelle perché chi si approccia a linux la prima volta c'è un piccolo problema le cartelle per esempio dentro windows ti faccio vedere prendo windows le cartelle di windows ok ora chiaramente io ho diverse cartelle ma io come te insomma tutti abbiamo diverse cartelle però quelle più diciamo di default sono system system 32 sys wow 64 poi c'è la cartella dei temporanei la cartella delle applicazioni eccetera eccetera che più o meno chi smanetta un po' con windows lo sa l'ha viste forse alcuni o in generale si sa a cosa servono o che cosa c'è dentro più o meno ecco dentro linux invece la cosa è un pochino diversa perché è un po' più come dire distribuita adesso andiamo a vedere a che cosa servono le cartelle e